attenzione paolo paoli newf ha inventato super geomaster quindi leggete l'avvertenza paolo paoli newf iscriviti al canale mettete mi piace non mi piace condividete e commentate ciao a tutti ciao a tutti e voci che pari imito super geomaster ma io non sono l'originale sono sempre io paolo paoli newf oggi farò i progetti futuri che andranno in futuro e congratulazioni per i tuoi cinque cento iscritti super geomaster fa più puntate di recensione di cartoni di siglone show invece del poverti siglone show faccio due volte al giorno il martedì e il giovedì con due puntate al giorno e peccato un show fa tutti i giorni di puntata è simile poi fa anche legame play the peace and show eccetera eccetera e ora passiamo i progetti futuri a marzo a marzo dopo i 500 iscritti arriverà una serie animata di super geomaster se non solo io parlo paoli newf sto imitando in versione corto di sette minuti si chiama super geomaster la serie animata dopo il grande successo di super geomaster che parla di super geomaster assieme ai suoi nuovi amici creato da paolo paoli newf che creano in stop motion con le mani eccetera eccetera i personaggi sono super geomaster un coniglietto fnaf molto simpatico incompetente bullo e simpatico coniglio brum come l'immagine del profilo ma a volte cose belle ed è il suo problema senso che andrà bene male e poi i nuovi pixar personaggi sono veramente belle e la fidanzata coniglietta rossa di super geomaster versione non fnaf ma viene usata come assistente è una bella ragazza che la sua fidanzata di super geomaster poi abbiamo resi è il miglior amico di super geomaster è un dinosauro spesso fa molti guai altrove è il super maio un idraulico di casa di super geomaster ma è molto prepotente di cazzare e ci sono altri personaggi che gli piace a joe come saita mcqueen, toad, la ragazza, la famiglia super geomaster di conigli eccetera eccetera e la serie parla delle avventure di super geomaster che fa cose del mondo suo che la serie inizia il 7 marzo 2021 creato da paolo paoli new poi faranno un film nel gennaio 2022 sempre creato da me paolo paoli new farò io la creazione della serie del film del primo film esce il giorno stesso dei 5000 iscritti di super geomaster il te super geomaster movie detto in italiano super geomaster è il film il film parla delle berry bees che vogliono fare una re-show sul te cartoon show 3 e super geomaster lui non lo permette su super geomaster nel canale e lui super geomaster non li conosce e non li piace ma le berry bees porta super geomaster nel suo mondo assieme agli altri youtuber nel loro mondo come blake 2, are sevastatore, poketons, apriamo gli occhi ci sono anch'io, dottor panda ci sono tanti tanti eccetera eccetera e fanno la gara chi vincerà vedrà le berry bees e il resto degli youtubers assieme all'are sevastatore e poi gli altri youtuber fanno la gara a bel conto loro poi c'è super geomaster e i suoi amici che faranno udite udite super geomaster in squadra con blake 2 l'assistente yoshi ma che cavolo è? ma che ca... eh 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 lo so lo so chignano se le berry bees vincerà faranno la loro recensione e se non... vincerà le ins le ins faranno la loro recensione se no no se no cliccate un shot 3 il film durerà 20 parti 20 parti di video con 10 minuti perchè youtube non mi permette di fare ma mi permetterà vediamo il film durerà 10 minuti a 20 parti ma verrà andato in onda nel giorno a fine genna... nel gennaio 2022 a fine gennaio 2022 la prima parte con il giorno stesso e farò il film e lavorerò duramente per questo e se siete fan di super jouemaster farò altri video sul Tecato Show sul mitico Tecato Show sul coso ma i miei video piaciuti sono la pimpa di Del Tecato Show il mio programma il mio... la mia puntata perfetta di Tecato Show 2 che parla della pimpa e... Mario Kart Wii la puntata di la gara di cup che lo faremo nel prossimo video di speciarci con i 1000 iscritti di super jouemaster lo so che super jouemaster è il mio preferito lo so e di sera e... e se farà molto successo raggiungerà 6000 iscritti e vediamo se faranno l'arbum delle figurine della Diramis il libro della fabbrica editoria o modadori forse forse i giochi della Spin Master uova di Pasqua della Wittors o le uova di Pasqua Kinder super jouemaster vediamo cazze della Befana MC poi... fa tante cose bizarre e chissà che cosa vediamo questo... questo... questo è tutto gente congratulazioni per i tuoi 5000 iscritti e ti manderò il video e vediamo se sei super jouemaster vediamo ma in futuro metteremo la serie animata e il film e il film dell'animazione di super jouemaster iscrivetevi al canale youtube paulo pauli new mettete mi piace e non mi piace condividete commentate guardate le pagine facebook e guardate il face e guardate tutti i miei video e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Ciao